Il pusher e la headline del profilo LinkedIn. Oddio, allora di cosa stiamo parlando? Fatto di cronaca, girava con la maglietta con la scritta pusher ed è stato arrestato con mezzo chilo di droga. Quindi era coerente nel senso che faceva vedere all'esterno quello che esattamente faceva. Non so se è una grande idea nell'ottica della propria professione, del proprio business, però questo è. L'essere così espliciti su quello che si fa aiuta le persone a capire chi sei, cosa fai e se soprattutto ti devono contattare senza perdere del tempo. Piccola parentesi, esiste veramente qualcuno su LinkedIn, perché di quello stiamo parlando, che si presenta come uno spacciatore. E' chiaramente un profilo fake, però mi aiuta a introdurre il discorso di LinkedIn. Io trovo spessissimo degli professionisti che si presentano in modo troppo generico su LinkedIn con una job title, per esempio, che è stato affibbiato dall'azienda, quindi sales manager, sales area manager. Ho capito, ma io non so, sales cosa vendi, area in quale area. Quindi per me quel tipo di headline, visto che abbiamo 220 caratteri a disposizione, non è sufficiente. Vediamo invece un esempio, secondo me virtuoso, fresatore specializzato in cinque assi e con il nome della specializzazione, con il nome della tecnologia, il brand. Questo credo che sia sicuramente più efficace, tra l'altro andate a fare i fresatori perché mi risulta che siano introvabili e quelli che trovano li strapagano. Quindi al di là di questo messaggio sui fresatori, l'idea è quella di ristrutturare la headline per essere il più chiari possibili, più efficaci possibili per dire cosa fai, per chi lo fai e magari come lo fai. Quindi qualche elemento differenziante. Cura la headline perché è quello che fa veramente la differenza. Buon LinkedIn. video.